Benvenuti e bentrovati a Sky TG24 Economia, 45 minuti insieme per parlare dei principali temi economici di giornata. Allora, un po' di cose che sono uscite oggi, sicuramente le parole di Gentiloni, che ha detto che in Europa servono ancora e serviranno ancora politiche di bilancio espansive. Il commissario economico, fra l'altro, l'Unione Europea, ha detto che bisogna evitare di tornare troppo pesto a misure logiche troppo restrittive che potrebbero favorire il rischio di una doppia recessione. Quindi l'anno prossimo in discussione ancora il patto di stabilità. Sappiamo che quest'anno è sospeso, l'anno prossimo anche, vediamo poi per gli anni a venire. L'Inps ci dice che dall'inizio della pandemia, a sostegno degli italiani, sono arrivati 14,3 milioni di euro. In totale sono stati spesi 26,1 milioni di cittadini, in effetti erano pochissimi quelli che hanno ricevuto denari, per 26,1 miliardi di euro. E così ha più senso. L'ABI ci conferma che prosegue il boom dei depositi, più 8%, non è una buona notizia, vuol dire che la gente mette via i soldi perché non è tranquilla. Ma oggi parleremo in modo particolare del MES, perché il Premier Conte è tornato sul MES dopo le parole di domenica. Non ho mai escluso, ha detto, l'accesso al MES. Queste decisioni politiche si prendono al tavolo di maggioranza dopo un confronto approfondito. Ma poi ha aggiunto, i soldi necessari alla sanità possiamo trovarli anche diversamente. Oggi abbiamo qua un membro della maggioranza e qui chiederemo quali sono gli altri modi per trovare i soldi. Il MES è un debito, questo è vero. Se ne avremo bisogno dovremo aumentare il deficit. Sì. E poi, se fossimo gli unici a chiedere il Fondo Salva Stati, sarebbe uno stigma per l'Italia. Tante cose su cui non tutti sono d'accordo. Però probabilmente, insomma, poi dopo sarà lui a dirci se è così, non è del tutto d'accordo. Nemmeno il Presidente della Commissione Finanze alla Camera, Italia Viva, Luigi Marattin, nei nostri studi di Roma. Ben trovato. Buonasera, grazie. Buonasera Marattin. Fra poco avremo qua l'ex Presidente della Commissione Bilancio della Camera, Borghi. Possiamo però collegarci subito e ringraziare per essere con noi la ricercatrice, scrittrice, collaboratrice del Fatto Quotidiano, Marta Fana. Buonasera. Buonasera. Allora, Marattin, vengo subito da lei. Prima di parlare di Messi, in verità, considerato che sono appena usciti, li vediamo nelle ultime ore, i numeri della pandemia, ci sono più casi, 10.874, però anche più tamponi, 144.000 erotti, ma purtroppo anche più morti, 89 morti. Mi dica la verità, il coprofuoco alle 23 in Lombardia e anche in Campania è l'anticamera di un lockdown, a suo modo di vedere? Spero di no, perché un altro lockdown sarebbe un colpo forte alla nostra economia, ma prima dell'economia viene sempre la salute, quindi ovviamente nessuno in questo caso può escludere nulla, anche se, ripeto, l'intenzione di tutti è evitare un altro lockdown, ma si evita soltanto se le regole vengono rispettate e vengono fatte rispettare. Io dico che, guardi, le confesso, io guardo soltanto tre dati ogni giorno, le terapie intensive, i ricoveri, in realtà anche solo questi due bastano, perché il dato dei contagi e dei tamponi è statisticamente sempre non robusto, perché non si sa mai a quale giorno esattamente si riferisce, semmai si possono guardare le medie settimanali, ma da qualunque parte la guardiamo è indubbio che l'epidemia stia rialzando la testa. Io faccio parte di coloro i quali credono che non occorra terrorizzare la popolazione, occorra essere molto chiari, cioè che quelle regole devono essere rispettate, devono essere fatte rispettare e solo così potremo passare quei mesi che ci separano o dalla terapia con gli anticorpi monoclonari o dal vaccino o in sicurezza senza ammazzare la nostra economia, ricordando però che prima dell'economia viene sempre la salute. Marattin, rimango con lei, mi scuseranno gli altri ospiti, fra l'altro saluto perché adesso hai seduto qua al tavolo, ti abbiamo, là, devo darle del tu, l'abbiamo appena presentata, Borghe, grazie di essere qua con noi. Buongiorno. Marattin, rimango con lei, sempre su questo punto per dopo andare sul MES anche con gli altri ospiti, a questo proposito il Premier Conte, quello del lockdown, ha anche accennato a possibili indennizzi per chi subirà danni economici da questa nuova stretta, però è stato molto, diciamo, approssimativo, poi forse non c'è niente di male, ma in quel momento non è stato detto nulla. Avete già pensato con quale modalità verranno erogati, quale potrebbe essere, diciamo, il criterio giusto per stabilire chi ne ha diritto? Il criterio, diciamo, abbiamo raggiunto un accordo complessivo sul fatto che d'ora in poi gli aiuti debbano essere selettivi sulla base di chi effettivamente è in difficoltà, quindi il criterio della perdita del fatturato... Perché non sempre lo sono stati, diciamo, in passato. Esatto, la perdita del fatturato è un buon criterio, poi vediamo se è il 20%, il 30%, eccetera. Così come l'unica forma di ristoro che ha funzionato molto bene è quella tramite l'Agenzia delle Entrate, cioè i 6 miliardi di ristoro e fondo perduto accreditati direttamente dall'Agenzia delle Entrate sul conto corrente dei destinatari. Quindi io credo che la modalità debba essere quella. Abbiamo stanziato 4 miliardi sul 2021. Penso che il Presidente si riferisse però a questi ultimi mesi del 2020 dove con un decreto sposteremo gli avanzi, nel senso quello che non si è speso sul 2020, penso soprattutto alla Cassa Integrazione, li dirigeremo verso le necessità di queste ultime 8 settimane, 8-9 settimane del 2020, qualora ci sia necessità. Borghi, vengo da lei. Lombardo, esponente della Lega, che non è più Lega Lombarda, ma rimane comunque un partito molto legato a questa regione. Pensa anche lei che se la situazione dei contagi non migliora entro due settimane si potrebbe andare verso il lockdown. Adesso sono già due le regioni che hanno un lockdown notturno. No, veramente non voglio parlare di cose di cui non me ne intendo. Io non lo so se è opportuno il lockdown piuttosto che no. Istintivamente io ho una mentalità più svizzera, probabilmente. La Svizzera sta messi male. Sì, sì, sono messi male, però c'è un'impostazione secondo me che dovrebbe essere corretta. Vole a dire responsabilizzare i cittadini. Cioè nel momento stesso in cui si dice a tutti cosa bisogna fare, io credo che la parte che non si comporta bene, diciamo così, sia del tutto residuale. Cioè pensare invece di fare delle chiusure generalizzate distruttive, temendo che ce ne siano 10 su 100.000 che non si comportano bene, secondo me non è la maniera giusta. Quindi maggiori controlli. Io penso, ma veramente bisognerebbe responsabilizzare i cittadini, dire chiaramente cosa non si deve fare. Del resto sono già molto spaventati adesso i cittadini. Io non credo che, non vedo in giro comportamenti imprudenti. Ecco, mettiamo la... Sia io che lei siamo qua con la mascherina, ce la siamo tolta solo un attimo prima. Assolutamente sì. L'unica cosa veramente dove ci terrei è che quelli che si chiamano risarcimenti, indennizi, chiamano come vuoi, io chiamerei sostegno a chi non ha in questo momento un reddito o chi rischia di non averlo, siano veri, immediati e non centellinati e ritardati. Però quello che diceva Marattina adesso, una percentuale del fatturato e usare l'agenzia delle entrate potrebbe essere una soluzione fattiva. Beh, certo meglio l'agenzia delle entrate che l'Inps. Abbiamo visto che l'Inps è stato un disastro, l'agenzia delle entrate è stata meglio. Dai che ho trovato qualcosa su cui lei e Marattina siete d'accordo. Sì, sì, no. Sarà l'intera puntata, cioè la segniamo. Ma penso che se l'abbiano visto tutti gli italiani, ecco la differenza di trattamento fra i due canali. No, no, questo è vero, nel senso che l'agenzia delle entrate ha fatto bene il suo lavoro e poi non commento il resto. Fana, vengo da lei. Lei vive in Spagna, se non sbaglio, e quindi in uno Stato che ha affrontato prima di noi questa seconda ondata. Il Presidente di Confindustria Bonomi dice che l'Italia è un paese in confusione. visto da lontano, visto dalla Spagna, che ha affrontato anche lei e sta affrontando un grave problema, le sembra un paese in confusione? Sinceramente, più che in confusione mi continua a sembrare, ma non soltanto nelle ultime settimane, un paese senza una vera visione. o meglio, come sempre, nella politica in forte balia degli interessi che invece fanno battaglia politica. E se ne faceva accenno anche adesso nelle risposte, si dice guardiamo agli aiuti in base ai bisogni, tra virgolette, si parla solo di fatturato, quando in realtà sappiamo che 700 mila lavoratori a tempo determinato hanno perso il lavoro. L'altra cosa, facciamo rispettare le regole. Io davvero lo dico senza polemica, però vorrei sapere quante ispezioni sono fatte nei luoghi di lavoro. Per tutta l'estate abbiamo continuato a leggere, a sentire di grandi focolai nei luoghi di lavoro, specie nella logistica, nel comparto della lavorazione delle carni e non soltanto. Logistica e carni in modo particolare, vero? Non c'è un dato che ci dica di quanto stiamo pensando di potenziare sia i controlli in termini di distanziamento e dispositivi di protezione individuale, ma anche se vogliamo una forma di tracciatura di quelli che sono i lavoratori. Perché poi, se sentiamo dire, la gente si contagia stando a casa, in realtà la gente che va a lavorare probabilmente si contagia fuori e se non investiamo su questo... Sì, sembra che il problema maggiore sia nell'arrivare al lavoro piuttosto che al lavoro. Lei però ha fatto due esempi di due settori che effettivamente sono stati foltemente colpiti su quello. Però noi avevamo qua il segretario della FIOM, cioè dei metalmeccanici della CGL, che ci diceva che in fabbrica si sta abbastanza tranquilli da quel punto di vista. Il problema è arrivarci. Sì, e questo è un altro grande problema riguardo non la confusione ma la visione programmatica. Abbiamo il tema dei mezzi pubblici. In sei mezzi non li abbiamo potenziati e ne abbiamo tanti privati, per esempio penso a quello del turismo, che sono fermi. Facciamoci delle convenzioni che pongano l'interesse generale di aumentare le linee, ma soprattutto cominciamo a fare l'investimento anche sui mezzi a risparmio energetico, a basso impatto, se vogliamo, climatico e quindi l'inquinamento. Se posso essere un po' populista, non è da me. In questo momento anche un diesel del 75, l'importante è che siano molto spaziati le persone. Poi dopo facciamo anche quello che ha detto lei che è sacrosanto. Domani mattina abbiamo bisogno di questo, esattamente. Quindi tutti i mezzi che abbiamo a disposizione per aumentare le corse, invece non rimanere in balia, se vogliamo, di un niente. Di chi ci dice tagliamo le corse e lasciamo la gente a piedi. Non si può fare. Non si deve fare proprio se abbiamo come obiettivo proteggere la salute dei cittadini e di conseguenza anche l'economia. Una società che sta meglio e anche più produttiva. Allora, parliamo adesso di economia. Nello specifico del MES, ve l'avevo anticipato. Marattin, comincio da lei. Allora, penso che lei fosse già collegato, quindi ha sentito nella mia premessa che cosa ha detto oggi il Presidente del Consiglio. Le leggo un brano di quello che ha detto Domenica, che lei però conosce sicuramente benissimo. Dice, non è la panacea, parla del MES, come viene rappresentato, i soldi del MES sono dei prestiti che non possono finanziare spese aggiuntive, ma solo spese già effettuate. Prestiti che vanno a incrementare il debito pubblico. Se li prendiamo, continua il Presidente del Consiglio, ha continuato il Presidente del Consiglio, dovrò intervenire con tasse e tagli, perché devo mantenere il debito sotto controllo. E poi, decisone di paesi, hanno preso il SUUR, mentre il MES non l'ha preso nessuno. Farlo potrebbe portare ad un effetto stigma. E qui ho un po' riassunto, ma questo era. Allora, cosa mi dice di queste spiegazioni il Presidente del Consiglio? L'ha convinta? Lei, oltre ad essere un deputato, è anche un professore di economia. Magari in pausa per un periodo, però, quello è. Io condivido solo una cosa delle frasi del Presidente. La prima, cioè il MES non è la panacea, nel senso che in un paese come questo, dove il problema non sono quasi mai quanti soldi ci sono, ma come spenderli. Un paese che ogni anno rischia di restituire miliardi di fondi strutturali perché non riesce a spenderli, i soldi sono una condizione necessaria, ma non sufficiente. Nel senso che prima bisogna capire cosa fare sulla nostra sanità. Però io credo che il MES vada preso e tutte le altre frasi dette dal Presidente mi lasciano molto perplesso, perché è vero, intanto non è vero, questa purtroppo è un'informazione non corretta, che non si possono utilizzare i soldi del MES per fare spese aggiuntive. È una scelta del Governo. I soldi del MES possono essere utilizzati o per finanziare spese già sostenute, da febbraio scorso in poi, o per finanziare spese che già abbiamo in bilancio, o per fare spese nuove aggiuntive. In quel caso, certo, è il nuovo deficit. Ma come sono il nuovo deficit i 100 miliardi di euro di deficit fatti quest'anno? Come sono il nuovo deficit i 27 miliardi dello SURE, che abbiamo già preso senza che nessuno protestasse? Come sono il nuovo deficit la parte prestiti del Recovery Fund, quelli che la Spagna ha deciso di non prendere, ma semplicemente perché la Spagna già si finanzia lo stesso tasso. Così come non è vero che accedendo al MES dovremmo tagliare le tasse, guardi, è notizia di oggi, il MEF, il Ministero dell'Economia, ha annunciato che il 9 novembre ci sarà un'asta di BTP futura. Dovremmo aumentare le tasse, voleva dire, ha detto tagliare. Sì, scusate, ma infatti il MEF ha annunciato che il 9 novembre emetteremo dei BTP futura, quelli sovranisti, quelli che piacciono a Borghi, ha un tasso minimo dell'1% e fra l'altro scadenza a 8 anni. Ora, io ho letto questa notizia e mi sono chiesto ma perché esattamente noi dobbiamo rifiutare un prestito decennale a tasso zero per prendere un prestito, il MES, la linea pandemica del MES, non è il MES quello della Grecia, per prendere un prestito a 8 anni, quindi è una scadenza inferiore, ha un tasso minimo dell'1%. Quella differenza fra 0 e 1% la pagano i contribuenti italiani sotto forma di maggiori tasse. Sì, è un extra costo che è stato anche valutato ed è cosa di cui parleremo. Rimango con lei, Borghi, adesso le risposte... No, dica, dica. No, adesso andiamo da Borghi. No, un attimo. Borghi le fa anche la risposta. Scalpita. Ormai lo conosco, quindi so dirla io, ecco, quella che... No, no, fa le domande... Ma anch'io conosco te. Allora, potrebbe... Sarebbe divertente chiedere... Cioè, farvi fare tipo... Sì, sì, ma anch'io potevo dirlo. Lei fa la parte di Marattin, lui fa la parte di Borghi e Marta Fana fa la sua, giustamente. Temporaneamente, per favore. Allora, Marattin, rimango solo un attimo con lei per farle commentare un'altra cosa che ha detto il Presidente del Consiglio, ha detto oggi, cioè i soldi necessari alla sanità possiamo trovarli anche diversamente. Che cosa potrebbe significare? Guardi, anche su questo non è che le devo... Cioè, le risponde la logica. Ci sono tre modi per trovare i soldi. O aumentando le tasse, o tagliando le spese, o aumentando tasse o tagliando spese future, che è la definizione di deficit. Perché facendo deficit significa che in futuro qualcuno dovrà pagare più tasse o meno spese. questa non è che è un'opinione. Non so se Borghi riesce a contestare anche questa. Adesso andiamo... Aspetto. Però, insomma, se vai in una facoltà di economia al primo anno, la prima settimana, le insegnano che ci sono tre modi per trovare... Poi Borghi dirà, vedete, me lo compra la BCE quel deficit. Vero? Lo sta per dire. Ma posso rispondere anche a quello... Però lei non può togliere la parte a Borghi, anche perché lo invitiamo anche per questo, per dire la sua. Prego, Borghi. Molto divertente. Allora, innanzitutto sono molto stupito perché per la prima volta... È d'accordo con Conte? No, sì, per la prima volta... No, non è che sono tanto d'accordo perché gli mancano dei pezzi, però per la prima volta da quando conosco Conte dice la verità. Tendenzialmente Conte ha tanti difetti, arriva in ritardo, lascia la gente a macerare gli appuntamenti, è strafottente, ne ha tanti difetti, però uno è particolarmente evidente. Avete mantenuto buoni rapporti, vedo. Sì, sì, lo amo. È un mentitore compulsivo, no? E quindi io, averlo sentito ieri sera, l'altra sera, dire la verità, le posso assicurare che sono rimasto molto stupito. Perché? Cominciamo con la prima. Il MES è un prestito. Ah, fin qua? Ma che meraviglia! Perché fino adesso, nelle fanfaronate dette dai vari politici da tutti i livelli e cui, per esempio, il capo del partito di Marattin è un noto, avrebbe detto che i soldi si li regalavano. È un noto esponente, E pareva che questi soldi Ma quindi l'economia di solito mandano Marattin a parlare? No, ma lo so, ma io mi ricordo un Renzi che diceva la tassa Ceccardi, che se un governatore, se arrivava un governatore di centrodestra in una regione, veniva tassato il cittadino di 2.000, 3.000 miliardi, che era la quota a parte del MES, no? che non veniva assegnata alla regione. Comunque, la prima cosa è che il MES è un debito. Abbiamo scoperto che è un prestito, no? Benissimo, e quindi è esattamente equivalente a quello di un titolo di Stato, similiari. Bene, abbiamo scoperto che la differenza fra il costo del debito e il costo del MES è piccola. Abbiamo detto 200 milioni all'anno, no? Allora, ipotizziamo, non è così, che tra 0,1 e 1 è 10 volte di più il tasso di interesse. Se io la mandassi a prendere un mutuo e uno le offre un per cento in meno, sono scoperto. No, no, per carità, però abbiamo detto che sono 200 milioni all'anno. Io contesto anche questi 200, perché dico, e come tutti sanno, che la totalità dei titoli emessi in questo momento vengono ricomprati dalla Banca Centrale che restituisce gli interessi allo Stato, quindi per me è 0. No, non fa 0, è una quota a parte, lo sa anche lei. Ma supponiamo, l'80%, ma supponiamo anche che siano 200 milioni. Meno del 80%. 200 milioni, 200 milioni, stiamo parlando di una cifra che è così irrisoria sul bilancio statale, tale per cui se io devo prendere un mutuo a una banca e c'è una banca che è a 10 km di distanza da parte mia, mi fa 10 centesimi, perché questo sul reddito dello Stato, l'abbiamo fatto l'altra volta il conto, se noi facessimo lo Stato pari a una persona che guadagna 1800 euro di stipendio, il risparmio del MES è 20 centesimi. Bene, se io devo fare 10 km per andare a un'altra banca rispetto a quella che invece è vicino a casa mia, ma mi fa 20 centesimi in più come costo, non me ne frega niente, ma questi 20 centesimi, cos'è il costo di questi 20 centesimi? Perché sembrerebbe che i due prestiti avessero uguali caratteristiche e invece no, e qui è quello che non ha detto Conte. Conte ha detto, ha parlato di stigma ed è vero, il MES è una cosa fatta per chi non ha liquidità, non ha soldi, se io vado a prenderlo evidentemente lo stigma c'è. Ma supponiamo anche di non considerare questo. Il MES sono crediti privilegiati, quindi cosa significa? Che comparare il tasso di un credito privilegiato con un credito virgolette chirografario, quindi vale a dire alla pari dell'altro, è una scemenza. Mi faccia, perché non tutto il nostro pubblico deve sapere, i crediti privilegiati sono quelli che vengono ripagati prima, però se posso permettermi, rimanendo dentro all'esempio che faceva lei prima, è una parte veramente risolta rispetto all'ammontare del debito pubblico totale. Può anche essere un centesimo, ma... Ma Marattin che non la interrompe mai non la sorprende. Ma può anche essere un centesimo sull'ammontare norme di debito pubblico, però c'è un punto che dovrebbe essere chiarito. Poi dopo fate voi. Allora, il punto è questo. C'è uno spread? Sì, sui titoli di Stato. Questo spread è la misura del rischio che il mercato attribuisce ai titoli italiani. Bene o male che sia, giustificato o sia, non è che uno vuole dichiarare default. Il mercato lo rende così. Se noi esentiamo da questo rischio una parte di creditori tramite un prestito privilegiato, ma dove andrà a finire questo rischio, secondo voi, se non sulla spalle degli altri. Se però quella parte è lo 0,1%. Ma non importa, viene riportato esattamente paro paro sulla spalle degli altri perché quello è un rischio paese. Sì, in modo... Ma allora, dato però che viene riportato... Un'inezia. Ma dato che è un'inezia su una grossa cifra... Voi capite però... Ma no, è uguale, capite che se io tolgo 200 milioni dal MES e li rispalmo sui miliardi, alla fine sempre quella è la cifra. Quindi io vado a intrupparmi dentro con una roba che ha condizioni, con una cosa esterna, che ha lo sigma, che ha tutto per risparmiare pochissimo e oltretutto su un debito privilegiato. ma bisogna essere dei macchie. Poi dopo ritorneremo da Marattin. Fana, trattandosi di un prestito, certo, andrebbe a incrementare il debito, l'abbiamo detto, ma con una precisazione, si tratterebbe dello 0,2% del PIL. Quindi rischiamo comunque di doverci fare debito sul mercato a fronte di un debito che comunque si avvia a raggiungere la soglia record del 158% del PIL. Davvero non ce lo possiamo permettere. Nel senso, secondo lei, diciamo, Conte ha tirato un po' troppo la corda nella sua spiegazione o c'è una logica in quello che ha detto? C'è una logica, è ovvio, io sono diametralmente spesso in disaccordo con Borghi, però è evidente che i 36 miliardi del MES sono una goccia in mezzo al mare ed è una questione di scelta politica, del come ci finanziamo come Stato. Ora, la discussione all'interno dei paesi europei è davvero, qui c'è una grande differenza tra quello che è il dibattito su come si fa la ripresa, come si crea, quindi la prossima manovra di bilancio e tutte le risorse che serviranno nei prossimi anni tra Italia e il resto di Europa. Nei colleghi, amici, militanti francesi, né tantomeno quelli spagnoli e portoghesi parlano del MES, non si è capito perché in Italia stiamo ancora con le pagine nei giornali e le dichiarazioni è sempre a parlare Ne parlavamo anche prima quando parlavamo solo del MES e non della linea pandemica, è quello forse il problema. Ma sì, se ne parla davvero come se non fossimo in grado di intendere e di volere qual è la scelta politica che deve guidare la manovra di bilancio. Abbiamo speso centinaia di miliardi, ne dovremmo spendere molti di più, io credo in modo diverso rispetto a quello che stanno facendo, ma questo è un altro tema. Ma concentriamoci davvero sulle cose di sostanza, perché questi sono dettagli davvero di un dibattito provinciale di politica diciamo secondo me di basso livello, quando invece qua dobbiamo veramente chiederci che cosa ci facciamo con i prossimi cento miliardi, i tassi stanno scendendo, c'era un grafico che era stato proprio condiviso pochi giorni fa da uno degli storici economici più importanti a livello internazionale Adam Tuste dice i tassi con cui si finanzia l'Italia oggi e quindi anche le prossime aste come diceva lei futura e simili sono i più bassi degli ultimi 600 anni ora al di là di capire come si ritrovano i tassi nel 1600 nel 1500 che non è il mio mestiere però questa è una cosa per certa e di conseguenza il peso di quella restituzione in una condizione di maggiore sovranità democratica perché poi è il Parlamento che decide come destinare i fondi della manovra e quindi anche quelli su cui ci facciamo deficit eventuale debito perché poi diventa uno stock sostanzialmente su quello dovremmo confrontarci e basta con il MES Allora Marattin torno da lei e lo faccio diciamo introducendo un tema che lei ha già parzialmente introdotto ed è quello della Spagna loro non solo non stanno attivando il MES ma non stanno attivando nemmeno forse il recovery anche perché hanno un tasso di interesse talmente basso che non gli conviene ora sulla Spagna la spiegazione l'ho già data io ma perché secondo lei il MES invece non lo attiva nessun altro ci sono stati a cui converrebbe come l'Italia? no sono solo Grecia e Cipro l'ha già data lei ma come vede è inutile che la continui a dare lei perché continuano a ripetere come mai non lo prende nessuno chissà qual è il complotto è semplice Spagna Francia e tutti gli altri tocca dire a quelli del MES di abbassare un pochettino il tasso allora si presenta vabbè ma lo decide il mercato il tasso al quale il MES si finanzia ovviamente la Spagna si finanzia la Francia si finanziano a tassi uguali o inferiori o leggerissimamente superiori a quelli del MES quindi non è economicamente razionale che prendano quel prestito questa è la la Spagna ha deciso di non farla per una prospettiva politica non meramente di istituzione degli interessi questo è il discorso che fa Sanchez questo è il discorso che fa Iglesias quando ci sono gli interventi governativi e parlamentari posso finire io il ministro delle finanze spagnolo ragiona sulla base di quello che costa o non costa i contribuenti spagnoli non in base alla politica alle cose quindi semplicemente per la Spagna per la Francia indebitarsi a un tasso maggiore solo per far contento qualcuno in Italia diciamo non è una cosa che quegli stati sovrani fanno tant'è vero che anche il recovery fund che alla fine avrà un costo di finanziamento simile a quello del MES non è conveniente nella parte prestiti per la maggior parte degli stati però Marattin la interrompo per rimanere con lei così almeno diciamo il boccone meno amaro Borghi più o meno stava dicendo che praticamente non ci conviene quindi quasi non si spiega il motivo per cui ecco su questo su questo rispondo volentieri una delle prime cose che si insegnano in economia è il concetto di costo opportunità cioè Claudio che cosa diceva ma cosa volete che siano 200 milioni a parte come faceva notare lei è più di 200 milioni perché se confrontiamo con il costo in asta il primo novembre è molto molto di più però in ogni caso sono 300 400 quelli che sono cosa volete che siano rispetto a 800 miliardi di spesa pubblica in economia si insegna il concetto di costo opportunità cioè che vuol dire il costo di una cosa è cos'altro ci potevo fare con quei soldi allora mi faccio raccontare una storia nella legge di bilancio che sta per che sta per in parlamento noi finanziamo l'università con 165 milioni non le sarebbe piaciuto bignami a moltiplicare per 3 per 2 per 4 il finanziamento all'università il fondo non autosufficienza lo finanziamo per 100 milioni che è un terzo di quello che potremmo risparmiare è una scelta vostra Marattin basta che tu scrivi su quel bilancio un'altra cifra e te lo proviamo quello che sto dicendo è chiaro che è finito chiuda chiuda Marattin così sentiamo gli altri chiuda no 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 parla come si sono di una facita finita facciamo finire Marattin facciamo finire Marattin Borghi li aggiungi non puoi dire che mancano i pezzi sia gentile non è che perché non c'è il mess non puoi dare nei poverelli ma perché è una cosa intollerabile sentire che perché c'è il mess non può dare i soldi ai poverini mi sto scontrando con due interlocutori che sono convinti che i soldi nascano sotto gli alberi quindi per forza mi rispondono e beh date 2, 3, 4, 10 miliardi nascono nelle banche centrali assolutamente guardi però io devo poter terminare dopodiché ascolterò con estremo interesse l'opinione dei due qualificatissimi interlocutori come quelli che ho di fronte ripeto chi è convinto che i soldi nascano sotto gli alberi o che li puoi prendere a prestito all'infinito adesso mi dice vabbè dai l'università 10 miliardi 15 miliardi 20 miliardi nel mondo reale questi sono i soldi che il vincolo di bilancio ci permette di destinare io dico con 200 300 300 300 400 milioni di euro all'anno che avrei se accedessimo al MES io ce ne ho di cose interessanti da fare ad esempio moltiplicare per 3 per 4 e per 5 tutti gli stanziamenti che in questa manovra espansiva di bilancio andiamo a dare questo è il punto Pana ultimo suo intervento poi il nostro tempo è finito perché oggi dobbiamo chiudere con un po' di anticipo a lei allora la scelta politica su come allocare anche soltanto risorse fisse perché non prendiamo i miliardi che spendiamo in F35 come chiediamo da anni e li destiniamo alla scuola alla sanità e alle infrastrutture pubbliche quello è decidere come distribuire i soldi nei vari diciamo quadratini di celle di bilancio è l'altro che 100 milioni parliamo di miliardi ogni anno e quella è una scelta politica non c'è nessun vincolo di bilancio che chiede e impone di destinare i soldi agli F35 e agli armamenti piuttosto che alla scuola o all'università e poi vogliamo fare una manovra che sia 100 miliardi virgola 2 facciamola si può fare perché i tassi di interesse sono bassi perché il fiscal compact è stato bloccato e perché la politica monetaria la lagarde continua a ripeterlo favorisce quella di bilancio in termini fiscali quindi in questo momento si può tranquillamente fare i soldi non crescono nell'area il problema è che la leva oggi sono d'accordo no ma non siamo d'accordo però voglio dire su questo punto la questione qui è che i soldi come vengono creare F35 vendere diciamo comprare scusi non vendere F35 crea molto meno pil quindi molta meno leva in termini di occupazione e di reddito di quanto non lo fa la scuola e la sanità questa pure macroeconomia 1.0 dico poi parliamo di come viene insegnata l'economia il ritorno io per esempio forse l'F35 lo otterrei e rinuncerei a qualche monopattino però sono scelte basta non rinunciare alle scuole basta non rinunciare allora io volevo salutarvi non lo faccio perché abbiamo motivo di chiedervi di rimanere con noi intanto però vado da Andrea Franceschi il sole 24 ore per sapere come hanno chiuso le borse come stanno andando quelle invece degli Stati Uniti sì buonasera Andrea intanto un aggiornamento se volete sul costo di rifinanziamento del debito italiano visto che ne parlavate il rendimento del decennale è risalito rispetto ai minimi toccati nelle ultime settimane a 0,71% rispetto al costo di rifinanziamento del fondo salva stati siamo circa un punto percentuale in più oggi è stata una giornata a due velocità sulle borse con l'Europa sostanzialmente contrastata con Parigi e Francoforte è negativa mentre Milano e Madrid hanno guadagnato terreno hanno guadagnato terreno anche perché c'è una forte componente bancaria all'interno di questi listini e il settore bancario quest'oggi è andato molto bene anche per una trimestrale sopra le attese della banca svizzera UBS tutt'altro clima si è rispirato oltre Ocevano dopo le borse tutt'ora Wall Street in questo momento guadagna terreno in questo caso le aspettative sono legate al raggiungimento di un possibile accordo tra Democratici e Congresso e Casa Bianca su un piano di stimoli fiscali il Presidente della Camera Nel Sibirosi ha dato come deadline la giornata di oggi per cui c'è molta attesa con questo è tutto ti restituisco la linea ad Andrea Franceschi allora Borghi torno da lei e lo faccio con questa domanda a che condizioni non tanto del MES ma anche del MES della linea pandemica del MES ma anche a condizioni di mercato risulterebbe quindi secondo lei accettabile attivare questa linea nel senso se il nostro tasso di interesse a un certo punto riprendesse a salire la prima che io richiederei è la cancellazione della clausola di privilegio se i prestiti del MES dovrebbero essere pari passu con i titoli di Stato cioè non ci deve essere un ente straordinario lussemburghese che passa davanti al mio sottoscrittore di BTP perché poi devo andaglielo a spiegare non è simpatico quindi la prima cosa da cancellare è quella poi ne parliamo allora posso replicare su questo prego Borghi no non mi chiami Borghi per favore no prima lei faceva mi sono confuso non è una grande offesa siete anche amici beh su questo possiamo discutere allora stavo dicendo gliel'ha già spiegato lei a Borghi prima ma lo vede questa verità circolare spieghiamo a chi sta a casa che cosa vuol dire il credito privilegiato vuol dire che se lo Stato fallisce deve rimborsare prima il creditore privilegiato allora quando uno Stato fallisce normalmente riesce a rimborsare il 60 il 70% del proprio debito quindi per succedere quello che diceva Borghi cioè per spiazzare la vecchietta col BTP bisogna che l'ammontare di credito privilegiato sia il 30 il 40 il 50% dello stock di debito non è vero Marattin come lei ha detto Bignami i MES sono l'1,4% non è vero in questo momento affinché si verifichi Luigi in questo momento tu hai uno spread ma non c'entra lo spread ma in questo momento lo spread è perché è una possibilità di fallimento non è vero Marattin non l'ha mai interrotta il mercato anticipa che succede che succede quando prezza i titoli il mercato dice c'è un creditore privilegiato e c'è uno non privilegiato ma fammi vedere le dimensioni perché se questo emittente fallisce vuol dire se il privilegiato è grosso 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 vuol dire che spiazza quello piccolo 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 siccome stiamo parlando di un privilegiato che è l'1% di tutto il debito italiano ma quale accidenti effetto spiazzamento vuoi vedere te lo stiamo dicendo da sei mesi e continui a ripetere sempre le stesse cose come un disco rotto ma allora non sarà un problema rimuovere questa clausola adesso sentiamolo però Borghi prego discorrotto ma allora se è così rilevante che problema c'è a rimuovere questa clausola è un organismo sovranazionale manda Gualtieri manda Gualtieri in Europa fallo valere con questa sua aggressività con questa sua capacità non siate aggressivi nemmeno voi due è inutile che vi saliate sulla voce manda Gualtieri con la chitarra in Europa e li convinci a togliere la clausola di tanto è rilevante è una scemenza la pinzillacchera togliamola togliamola e così vedi che siamo tutti contenti perché non la tolgono perché in realtà è molto rilevante e non è solo una questione di dire se falliamo allora 60% nessuno vuole che fallisca lo Stato nessuno immagina che fallisca lo Stato ma l'inizio della segmentazione del debito ha sempre portato all'Argentina perché comincia uno a avere siamo lontanissimi Borghi dall'Argentina ma è sempre così perché uno comincia uno a avere il privilegino gli altri dicono ma allora ma se quello lì ha il privilegino perché io no e lo voglio anch'io e comincia con una droga è come mettere un 1% di veleno dentro in un piatto grande allora uno dice ah che bello è solo un 1% tutte le persone che hanno fatto che hanno avuto un incidente in macchina sono salite in macchina questo non vuol dire che salire in macchina porta a un incidente ma cosa c'è no perché nel senso non c'è un rapporto di causa-effetto purtroppo purtroppo c'è perché nella psicologia di chi prende il debito in ogni caso quella quota di risparmi si spalma sul resto tu la vedi poco ma c'è e quindi significa che non c'è nessun guadagno prendiamo esempio tutti da Marta Fana che ha opinioni diverse dalle vostre ma non vi interrompe mai prego Fana ripetisco ci stiamo come dire ancora avvitando su una questione io su questo devo dare ragione a Borghi se quelle clausole e quei vincoli non fossero rilevanti non ci sarebbe nulla a eliminarli poi ribadiamo una cosa è vero che abbiamo degli enti sovranazionali ma la negoziare comunque si siedono dei rappresentanti dei governi nelle varie forme sedi e maniere che sono appunto dentro i regolamenti istituzionali per quanto sovranazionali quindi smettiamo di dire che c'è un pilota automatico a meno che di usarlo come vincolo esterno e dire è colpa loro e non ci facciamo niente come quando è stato firmato il pareggio di bilancio che l'ha fatto poi il Parlamento decretato altrimenti non sarebbe potuto entrare nell'ordinamento italiano ora questa cosa qua è rilevante per quello che dicevo io prima inutile dire ah poi ogni tanto parliamo di politica questa è politica le scelte di bilancio la politica economica sia fiscale che monetaria sono degli approcci politica altrimenti non avremo in questo frangente Draghi che dice la politica monetaria può fare tutto ma poi ci vuole quella fiscale allora abbiamo ancora 15 secondi e volevo dare l'ultima parola a Marattin prego no no non la vuole? salutiamo così? niente grazie c'è la partita oggi arrivederci buonasera arrivederci a tutti Marattin si è dispiaciuto però era un 2 contro 1 però d'altronde ci sta fra l'altro no 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 non mi sono affatto dispiaciuto stavo salutando e ringraziando per il confronto grazie ok perfetto allora grazie a lei Luigi Marattin grazie ma 2 contro 1 casuale di solito non siamo mai d'accordo non è quello il problema fra l'altro è un ottimo combattente non è sicuramente quello il problema semplicemente probabilmente 20 secondi per ribadire non gli servivano ha già detto molte volte quello che pensa grazie a lei Borghi grazie a Marta Fana grazie di nuovo Marattin grazie ai nostri telespettatori noi ci vediamo domani 17.15 scatici 24 economie grazie a tutti